Guarda, prima di passare alla quarta fotografia, tu hai fatto il caso Ambrosoli, mi è piaciuto, ne stavamo parlando prima della nostra trasmissione, di questa definizione di eroe borghese, che questo borghese fa un po' crollare l'epica. Sì, toglie tutto quello che di epico c'è nell'eroe, però Ambrosoli è una figura attuale. Sì, Ambrosoli è una figura attuale, tra l'altro il titolo di Saiano è bellissimo, un eroe borghese, se io lo dovessi completare, però non sarebbe più un titolo, io direi un eroe borghese suo malgrado e sarebbe secondo me la definizione perfezione. Sì, perché lui diventa un eroe, perché lo lasciano su un marciapiede sotto casa sua con quattro colpi di pistola e i sicari di Sindona, ma lui non ha mai cercato di essere un eroe, anzi ha cercato di essere un uomo qualunque, un uomo che rispettava le regole e voleva che le regole fossero rispettate dagli altri, in nome di una priorità per lui imprescindibile, che era l'onestà. Ecco, essere un uomo qualunque, però in questo senso vuole dire una cosa molto importante, qualunque non può essere vista nell'accezione riduttiva del termine, anzi io credo che oggi ci sia bisogno di uomini qualunque che svolgono la loro funzione con un senso importante per il paese, per la collettività, che si pensino come uomini politici, nell'accezione nobile del termine, non nel senso partitico. Io so che tu parli di queste cose con tua figlia. Io parlo con mia figlia per forza, però di questi concetti sono belli, parlare di queste cose con i figli, è quello che faccio anch'io, cioè parlare di questi concetti che sembrano oggi, voglio dire, da trascurare invece la morale, l'etica, l'essere una persona qualunque. In questo senso, sì. Sì, a volte anche avere la sincerità, la leggerezza e il pudore guardando nei figli i nostri occhi di dirgli guarda che tuo papà è un uomo qualunque. Ma questa non è una cosa piccola, è una cosa importante e che ha un senso di responsabilità molto grande. Questo penso che dovremmo trasmettere a loro, non inseguire tanti modelli che seguono oggi un po'. Appunto, che sono quello che sappiamo, ma sono contento che lo stiamo facendo qui in questa trasmissione e lo stanno facendo due padri, non un attore e un giornalista, ma due padri. Quarta fotografia, importante, ed eccoci all'Oedipo, re. Hai detto, il personaggio più grande e potente che un attore possa interpretare sulla scena. Noi stiamo parlando di Sofocle e secondo Aristotela della tragedia greca perfetta. Tu dell'Oedipo re, attore e regista, tratto a Vercelli tra poco ci sarà. Il 15 aprile, sì. Infatti ora mi taglierò i baffi di Ambrosoli e mi entrerò nei panni di Oedipo, insomma, che ho già fatto l'anno scorso, questa è una ripresa dello spettacolo. Il personaggio più potente. Spiega perché. Probabilmente è l'opera, è la poesia tragica più alta, insieme a Macbeth di Shakespeare che sia stata scritta. È la tragedia pura, è quello che senti proprio sulla pelle dentro. E poi è un personaggio che ha potenza nella sua espressione e poi ha migliaia di sfumature. Tu prova a pensare di immaginare di entrare nei panni di un uomo che ha ucciso il proprio padre e ha ingravidato la propria madre. Solo questo sarebbe, è uno sforzo veramente difficile. Anche se a questo proposito mi piacerebbe dirti che io, essendo anche regista, ho spogliato totalmente la vicenda da qualunque contesto o analisi psicanalitica freudiana. Quello che è successo un po' nel corso del Novecento, da quando conosciamo la psicanalisi, che è successo in molti allestimenti. Come forse era anche giusto usare questa lente, in un certo senso, per rileggere questa storia. Io invece ho voluto tornare alla cristallizzazione del mito, Sofocleo e basta. Quindi al racconto. Al racconto puro, quindi al teatro puro. Il teatro è qualcuno che esce, qualcuno che finge di essere qualcuno davanti ad almeno due spettatori che fingono di crederci. Questo fondamentalmente è. E il teatro è quello di uscire e raccontare con la parola. In tutta la tragedia greca ne succedono di tutti i colori, ammazzamenti, cose, eccetera. Non si vede mai un pugnale, una goccia di sangue, eccetera. Tutto viene raccontato in maniera epica dal personaggio che arriva, dal messo, dall'ancella, eccetera. Edipo lo racconta anche da solo perché è la prima volta, e in questo è un eroe molto moderno, è quasi un eroe rinascimentale, si scopre quasi, è il prodromo dell'umanesimo, dell'uomo, dell'umanesimo, perché comincia a riflettere su se stesso. in questi suoi lunghissimi monologhi e non era mai capitato. Da lì è nata anche la vicenda di accostarlo alla psicanalisi, eccetera. Però a me non interessava, volevo tornare alla storia e volevo soprattutto che Edipo fosse assolutamente un colpevole, ma innocente, insomma un ossimoro vivente, nel senso che lui queste cose atroci le commette, ma le commette inconsapevolmente, altrimenti tradiamo la storia di Sofocre. Ma io non voglio attestati da questo punto di vista, basterebbe dire che Freud viene qualche migliaio di anni dopo Sofocre, insomma. Peccato perché abbiamo poco tempo e perché mi piacerebbe approfondire questa questione senza finire in maniera blasfema e parlare della figura di Giuda. che forse bisognerebbe rileggerla probabilmente in un'altra linea, però qui ci vorrebbero forse... Tanto, tanto tempo. E invece dobbiamo arrivare, caro Federico, alla quinta fotografia. Qui cambiamo completamente il registro perché parliamo di Roberto Baggio e di Roger Federer. Insieme li abbiamo messi perché a tuo avviso rappresentano lo sport e la bellezza, il gesto puro, l'attitudine, il talento naturale contrapposto alla costruzione. in laboratorio. Sì. Perché questa scelta, proprio questi due personaggi? Ma guarda, questa scelta, intanto mi faceva piacere non parlare solo di teatro e fare capire che sono un uomo, un uomo è una parola grossa, però impegnativa, che si dedica anche ad altro e altre passioni. Lo sport è sicuramente una delle grandissime passioni, il calcio e il tennis che pratico anche. Ma tu sei juventino? Eh? Possiamo dirlo, sei juventino. Sono juventino, come no? Lo si deve dire, perché no? Eh beh, lo sono anch'io, quindi. No, no, quindi, sono fiero. Avevo quattro anni, mio papà mi regalò un completo da calcio ed era… Qual è il tuo idolo? Il mio idolo, juventino? Ma ti dico che quando Roberto Baggio ha giocato nella Juve sono stato molto bene. Vabbè, però un po' grandicello. Però un po' grandicello. Io ho avuto Anastasi con una ragazza. Io però, insomma, nella mia vita ho visto giocare Zidane, ho visto giocare Roberto Baggio, ho visto giocare Del Piero, quindi sono stato uno spettatore fortunato. Ti piace il 10, ti piace il numero 10. Ti piace il 10 perché… Da regista, ecco. Da artisti. Da regista. Da artisti, ecco. Il calcio italiano ha un po' espulso dal gioco questo numero e credo che se ne stia pentendo. Molto. Perché ha ucciso la fantasia il calcio materno. Esatto. Mi piaceva raccontare con questa foto questi due artisti che sono due campioni che nel loro settore specifico ho amato tantissimo. Li ho amati anche per questo fare spettacolo, per essere artisti nel rettangolo di gioco e per quello che hanno fatto fuori, per come si sono sempre comportati. Ma anche per le scelte loro di vita. Per le scelte di vita. Io, ad esempio, Roberto Baggio non l'ho mai visto cercare di riciclarsi. Quando ha smesso di giocare. Adesso è tornato a loro nazionale però con un tono leggero, con un sottovoce. E Federer credo sia uno dei giocatori più corretti, uno degli sportivi per eccellenza. Mancano pochi minuti. Nel tuo blog, che è molto interessante, vi invito ad andarlo a vedere, che è www.federicograssi.com dove potete trovare anche tutte le novità su Federico, dove sarà, le tournée, le opere, eccetera, e è un consiglio che vi do. Tu citi Pasolini, se non sbaglio. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata e niente di meglio del teatro a me è potuto rappresentarla. Pasolini ha anche detto che il cinema non è riuscito a uccidere il teatro. No, credo che non riuscirà mai a farlo in un certo senso. Ad esempio, il cinema in un certo senso è stato ucciso dalla televisione, perché la gente non va più in sala e lo guarda a casa, perché erano fenomeni che potevano essere fagocitati l'uno con l'altro. Il teatro no, perché è uno spettacolo che bisogna vedere dal vivo, l'attore deve essere lì in carne ed ossa, è la sua prerogativa e non è possibile vederlo mediato attraverso uno schermo, non ce la farà mai, oppure non avrai mai quello che otterrai quando andrai in sala e ti siederai come spettatore. Però visto che mancano, come mi segnalano, pochissimi secondi, ma tra teatro, cinema e televisione, alla fine non ti viene voglia dire, vabbè, però il cinema e la tv mi danno quella popolarità, diciamolo proprio in soldo. No, no, ma io non ho nessun tipo di remora o di snobismo nei confronti di queste cose, anzi lo farei molto volentieri e anzi, devo dire che prossimamente ci saranno anche degli impegni in quel senso cinematografici. Diciamo che sono stato, a volte le cose della vita vanno un po' così. Sono stato molto occupato facendo teatro, fortunatamente, e sai che quando fai teatro stai in giro per un tournée per tre, quattro mesi, cinque, per fare il cinema voglio che tu stia a Roma. Quindi insomma in un certo senso ho fatto delle cose, sono stato occupato a fare queste cose e forse ho un po' trascurato questo aspetto, lo dico anche senza remora, insomma, e sicuramente mi darò da fare per colmare questa lacuna. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata della teoria di Darwin con l'attore, regista Federico Grassi. Io devo dire personalmente che è una puntata che mi è piaciuta moltissimo perché mi ha lasciato tante cose che mi porteranno a riflessioni e a ragionamenti e a pensieri di questo e voglio ringraziarti. Grazie Federico. Sono io che ringrazio te. Posso chiudere una cosina solo con Pasolini? Hai citato questa cosa, sta nel mio blog perché lo considero il più grande intellettuale del Novecento. Non solo tu. E' un maestro che mi dispiace essere nato così tardi per non averlo potuto incontrare. Grazie. Grazie.